Preferisco giocare e fare le domande dopo Non me ne frega un cazzo Che dolore Che dolore Lama mortale Il ginocchio di fronte a Dismas Sento che è una cazzata Sento Minchia 185 Scusami 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 Stai qua giù Almeno ho il supporto morale per quando Perderò perchè Questa spedizione andrà male Non vuoi scendere? No Ehi gente questo Il video del primo scuola e con questo nuovo video Siamo qui di nuovo con Darkest Dungeon Dove ci eravamo lasciati Ho semplicemente messo in pausa Mi sono fatto i fatti miei E sono ritornato adesso con La ripresa della spedizione Siamo nella taverna Le spade incrociate Guarigione fino al 50% Meno 1 di stress 5% di critico Fino alla prossima locanda Non è per niente male E mi sono dimenticato Ho scoperto nell'ultima spedizione Di aver di dare A mangiare i miei eroi Ho comprato il mangiare Ma mi sono dimenticato di darla Ma Vabbè Sono cose che vedremo dopo In ogni caso Paracelsus ha ottenuto un tratto Oddio Paciera Paciera Più 5 probabilità Di rapporto positivo Meno 10 probabilità Mi piace Estrema precisione Odry era già Oddio no Pensavo fosse precisione vera Invece no È critico più 7% Ma è nella mischia Merda Che cosa vuol dire? Estrema precisione funziona solo per la mischia Dai Ok Coagulo rapido 15% di resistenza al sanguinamento L'avrei preferito su Barrissan Visto che nella puntata precedente Mi sanguinava Mi sanguinava però Mi scorreggia Parassite della selva Sa trovare le risorse nella selva Interessante Più uno maestria Eeeh Non va per niente bene Perché uno di maestria è decisamente poco Direi di utilizzare questo per rimuovere lo stress Su due eroi casuali Quindi ovviamente punterei su di loro Diamo loro da mangiare E sono messi male Però teoricamente Se mi riparo il mio carro Dovrei stare bene Dovrei stare bene perché comunque Guariranno viaggiando Quindi ogni eroe ottiene fino al 50% di rigenerazione a bordo Abbiamo due maestrie da spendere Questo mi piacerebbe molto però Ho scoperto Cioè ho visto che su di lei non ho messo niente Quindi questo Mi servirebbe molto E anche il pugnale non mi dispiacerebbe Assenzio Picconata Picconata aumenta il danno 4-10 Quindi 3 di danno massimo 5% di critico Aumenta di 50% il colpo critico Quando il bersaglio ha Combo Non è per niente male Per niente male Lui sta bene Lui sta bene Però questo aumenta la guarigione al 25% Non è essenziale 10% di resistenza a tutto Sanguinamento Però lo tengo sempre in fondo Quindi questa incisione non è tanto utile 33% di causare cecità E... Garantite Cioè 100 Poi dipende dalla resistenza Ok Questo Maestria So di lui Beh non ho niente Se non esecuzione Che non è male Questo sarebbe tanta roba Perché mi da due di criti Due colpi critici Questo invece Non può ottenere invisibilità Eh però Dismass ha già due abilità potenziate Quindi... Ci teniamo così Mi piacerebbe qualcosa che causasse Critico Cioè combo su un nemico Questo va bene però Aumentiamo la probabilità di critico Più il colpo di pistola Paralizzo qualcuno Non è per niente male però Non lo so Non mi convince così tanto Mi piace di più la picconata Mi piace molto di più la picconata Però il fatto che ci sia sui primi due Dovrò trovare un modo Dovrò contare molto su Dismass E sul suo controattacco In ogni caso Che cosa succede qui? Perché c'è ancora un punto? Ok E' finito Non ho niente da mettere sulla diligenza A meno che io non vada sul negozio Bende Bende Dammele qua Dammele qua Un guento Non lo so In che regione voglio andare? Non lo so Non ho molta scelta La selva Apparentemente Ne ho una sola di scelta E adesso vediamo Questo più 25% di resistenza Fino alla prossima locanda Per un Uno dei miei ragazzi Però essendo l'ultima spedizione Potrei Spendere Cioè è la terza regione Ho visto Quindi teoricamente potrei spendere Quasi tutto Oppure c'è la terza regione Poi c'è il boss finale E' tosta Non lo so Non lo so onestamente Quindi Però essendo la selva Mi sa di avvelenamento Avvelenamento possibile Quindi prenderei anche delle Dell'antidoto Queste ne ho due Le devo equipaggiare Perché secondo me Faranno la differenza Oddio Avrei dovuto comprare questo Che mi cura Oddio Mi sono dimenticato Di avere le persone ferite Maledizione Posso vendere la roba Non posso vendere la roba Eh ah Fanculo l'ho scartata Merda Vabbè tanto era inutile Non importa Anche questo Rimuove cecità Ma non mi interessa Whisky Ah si compriamo questo va Compriamo questo E si Seleziamo invinto letale E direi di far bere Penso che migliori la relazione Vorrei Barristan con Audrey 9 e 9 Perché effettivamente Non erano molto Amanti L'un l'altro Non si volevano tanto bene Quindi So che generalmente conviene Oh Rapporti Speriamo siano positivi Mi avete dal cazzo Perché c'è il rischio A seconda delle relazioni Che hanno tra di loro Che ci sia un rapporto negativo Un rapporto positivo Secondo me è un rapporto negativo Ah Invidia Invidia Disma su uno stress E se utilizzo colpo tracciante Stress ad Audrey Oh Rispetto la grande Rispetto Se utilizzo sparo Paracelsus guadagna schivata Se utilizzo Taglio Disma Sguadagna attacco Mi piace questo dello sparo Ottimo E buttiamoci nell'avventura Andiamo Speriamo vada bene Mi auguro vada bene È la mia prima spedizione Quindi non mi aspetto di vincere Sarò onesto Non mi aspetto affatto di vincere Sarà molto difficile come gioco Cos'è questo Ok Loro consigliano di andare Questo consiglia di andare a sinistra Questo consiglia di andare dritto Lo studio dell'accademico Però non so che cosa ci sia qua E chi è che consiglia di andare qua Tutte e due consigliano di andare a destra Però così incontreremo dell'oating Studio dell'accademico Collezione dell'annata Ricompense di cuori undici Però qua sarei costretto ad andare qua Battaglia contro il boss Beh sono interessato alla battaglia contro il boss Onestamente Però mi conviene combattere il boss La domanda Secondo me no Secondo me mi convarrebbe evitare Il più possibile tutti i combattimenti E proseguire verso la locanda La strategia è vincente Però so che i boss danno dei token molto importanti Eh non sarà facile effettivamente Andiamo E poi avere il boss all'inizio E poi continuare Tutta l'avventura sarà un inferno Qui c'è uno spedale E bisogna decidere bene Questo mi conviene Perché alla fine Miglioriamo Miglioriamo la relazione con due Anche se Anche se potrebbe andare male Alla fine Potrebbe esserci un incontro Contro un nemico E rimuovere Avremo la possibilità di rimuovere questo Loating extra che ci ritroviamo Si chiama ecco cos'è loating Questa impietà extra che ci ritroviamo Ok Cos'è questo? Ingresso nell'oblio Riduzione Come vi dicevo Riduzione in pietà Quanta buffonaggine Oddio Questi sono molto Questi sono molto cattivi Invidia Invidia Però si vorrebbero bene Se scegliessi questa Si vorrebbero bene l'un l'altro Vai Però alla fine si Cioè hanno dodici di relazione Hanno sviluppato un'invidia Perché? Che cazzo di problemi avete raga? Eh 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 Mannaggia te a tua madre Questo giuscia per primo Ce ne dobbiamo sbarazzare Però due di schivata Quello di androcchia Rata cecante Li rimuoviamo uno di schivata? Oppure iniziamo con loro Però loro sono i tank Eh non è facile Non è facile Ok Concentriamoci su di lui Ok colpo critico Dobbiamo concentrarci su di lui mi sa Picconata in faccia Eh possiamo eliminarlo secondo me Al prossimo turno riusciamo ad eliminarlo Secondo me si Già 10 di danno Al prossimo turno riusciamo ad eliminarlo Se riusciamo a farli Ancora 9 di danno Ancora 3 di danno Riusciamo ad eliminarlo al prossimo turno Me gusta Me gusta Ok anche questo avrà critico Alla grande Alla grande non ho utilizzato Difesa perché comunque abbiamo la difesa Dalla nostra carovana Quindi sei un po' Uhh Mi sei piaciuto allora proverei rischierei dammi odri cazzo si in ginocchio 2 di danno solo però è stato un critico però ho preso 2 di danno grazie alla difesa della caro ma bastardo odio sta cosa della codardia praticamente Dismas per chi si fosse sintonizzato sulla terza puntata ha codardia quindi quindi tende a scappare sempre in fondo se si trova in prima posizione maledetto Dismas non è un uomo codardo vi garantisco è tutt'altro che codardo a giudicare dalla mia avventura su Darkest Dungeon 1 non serve concentriamoci su di lui concentriamoci su di lui lui non so che cosa faccio inizio del round 20% che diventa invisibile direi di iniziare a difendere la nostra compagnia lui schivata però non importa non mi fido così tanto no porca troia sono stupido ah c'è un contrattacco se Varistan si becca l'attacco lui non difenderà rigenerazione ok questo lo dobbiamo eliminare rigenerazione non va affatto bene dobbiamo sbarazzarci di questo bastardo ok pistola 8 danni no 8 danni va benissimo eh sì altro avvelenamento ora farò lo fa sempre lo fa sempre perché vuole l'attacco critico sta merdaccia adesso il prossimo attacco teoricamente dovrà prendere anche Audrey però forse ho la possibilità di muovermi in tempo per difendere per avanzare con il nostro Dismas e contraattaccare quindi direi di attaccare lui morto morto lui è morto ok alla grande alla grande ok lei è invisibile direi di farle una picconata in faccia questa merdina no avveleniamolo 12 di danno è tosta sì andiamo per questo bello il critico mi è piaciuto adesso lui è morto non so se sono non sono più convinto di voler avanzare con lui sì ci conto creando un Dismas e so che schiverà direi di curarlo dal sanguinamento non si sa mai però se prende danni extra in fondo lo lo sistemiamo grande Dismas grande Dismas Dismas è sempre stato il fuorileggio della mia classe preferita perché hanno stile sono dei banditi che si sono pentiti di quello che hanno fatto e vogliono portare la pace nel mondo è stupendo come concetto 5% di critico meno 15% di abilità di guarigione ricevuta dall'abilità secondo me mi converrebbe a metterlo su il nostro pestaiolo minchia 72 leghe è una lunga strada 72 leghe oh se faccio gli obiettivi secondari guadagno candele questa è una cosa che non sapevo mi piace però una cosa che voglio fare è dare a te ti do questo l'azione extra non è male però sto stun mi potrebbe fottere come devo ancora investigare su cosa si è macchiato perché se è una cosa è una cosa semplice potrei darlo su Dismas perché 50% di danni in più su Dismas mi piacerebbero alquanto quasi qua ma ci provo ci provo ci provo a darlo su Dismas o forse su delay no diamolo su Dismas perché è più schivata diamolo su Dismas ah devo mettere per forza prima un oggetto macchiato se no non funziona 50% di resistenza al sanguinamento per niente male però 56% di resistenza alla morte oh mio dio questo vuol dire una volta su due se vanno in punto di morte muoiono di sicuro questo è una cosa è una cosa pericolosissima è pericolosissimo lui 95% di resistenza al sanguinamento questo non sanguina manco se gli spari in testa allora beh qui è tosta io voglio proprio farmi il boss raga però vi ripeto ancora 72 leghe fino fino alla locanda è un boss adesso che mi togliesse tutta la salute tutti i miei ninnoli non è proprio intelligente ma dopo tutto ho due domande ho mai fatto qualcosa di intelligente su questo canale seconda domanda mi sono mai tirato indietro di fronte a qualcosa io non sono un codardo quindi si va a cazzo a morire più uno di più uno di loading mi aspetto che tu abbia ponderato il rischio no assolutamente no e me lo dice pure lui non sarà facile grazie grazie per il sostegno buon ragazzo sarà sarà veramente un dito in culo questo questo boss me lo sento 20 mefitici e notizie catastrofiche l'origine di tutto questo è vicina il forte del generale quindi è un generale nemico nemici d'elite oh madonna mia cioè vi dico solo avevo il 20% di trovare dei nemici potenziati che merda che merda decidiamo balestriere mi preoccupa lei gioca sul lei è più fragile decidiamo lei stai zitto stai zitto ok due attacchi e morirà oh un attacco e morirà la grande che culo che ho avuto ok questo armatura è uno di resistenza alla morte ma è già morto quindi non so come potrebbe morire di più di così è un po' difficile ma va bene lo stesso va bene lo stesso sayonara bitch aia 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 stronzo ci hai schivata fammi schivata no difensore mi conviene difendere lui oddio lui non resiste a niente per un po' difendiamo lui perché loro hanno lo scudo il contrattacco lo perdiamo però non importa dardo perforante chissà come mai ignora completamente l'armatura e te la rimuove pure che cagata che cagata posso dirvelo che cagata porca di quella troia adesso sopravvivrà perché no non sopravvivrà perché c'è esecuzione mi sa aspetta un attimo vai a fare ingullo dismas bastardo volevo fare esecuzione invece mi è andata male stronzo ah no morirà no non morirà uno di vita giusto per dare fastidio alla grande grande paracelsus mi sei piaciuto mi sei piaciuto ragazzuolo non credo che farò sei di danno quindi mi conviene rimuovere un po' di stress rimuoverò solo su di me perché lei ne ha quattro ah riuscirà ad attaccare ahia e gli danno non male va bene va bene va bene va bene sopportabile sopportabile lui morirà dobbiamo pensare a lui dobbiamo pensare a lui fai così ok ok 10 di danno prossimo turno mi sa che farai una brutta fine figliolo mi sa che farà una brutta fine tu ahia questo muore sei di danno bua 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 dovrei ucciderlo o dovrei dovrei aspettare per curare facciamo così aspettiamo per curare abbiamo un turno per curare lei quindi va bene mira attenta vai così ma così riesci ad agire lo stesso ma morirà per l'avvelenamento non è un problema bevi un po' d'assenzio velocità e cura ok colpo critico bello 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 sono tre round vedo e posso ah posso scegliere di seguire ogni combattimento ah interessante proseguo sono ancora nemici d'elite no meno male meno male questi non sono d'elite questo cos'è cecità cecità ah per la fiamma è vero 10% di cecità mi piace arbalestrieri arbalestir fuori dai coglioni li dobbiamo eliminare per primi sempre 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 maledizione accechiamoli accechiamoli più di quanto lo siano già ah ma stacca per due turni sarà cecità oh questa è nuova questa è nuova e non lo sapevo oh che adoro i critici li adoro ok questo probabilmente possiamo si respinge 40% di resistenza allo spostamento e alla fine ci ritroveremo lui che muore lo stesso e facciamo non so che cosa fare non lo so non lo so non lo so non lo so è che ha delle abilità abbastanza inutili ha delle abilità abbastanza inutili cioè per i primi turni perlomeno vabbè facciamo questo facciamo questo non si sa mai se dovessero attaccarmi il mio in ginocchietti di fronte alla super ma bastardo odio sta cosa dei dardi perforanti è una cagata c'ha lo scudo il mio personaggio per un motivo e tu arrivi a rompermi i coglioni stronzo piccola merda ok mira attenta se stesso forza ragazzo conto su di te 5 danno non male ok facciamo questo facciamo questo mi piacerebbe se quest'attacco facesse tipo non so provocasse i nemici perché alla fine salto in prima linea eh va a fanculo 4 sanguinamento ma che cazzo è 4 di sanguinamento ma io non lo faccio 4 di sanguinamento manco a pregare tutte le divinità del mondo 4 di sanguinamento ma una cagata ma scusami eh rimuoverei il sanguinamento perché dopo mi aspetta il boss suppongo no ultimo combattimento che dolore che dolore che dolore lama mortale il ginocchio di fronte a Dismas il mio miglior combattimento ma tu resiste sto stronzo è un carro armato l'avevo capito dal fatto che fosse gigante e con l'armatura però voglio dire è su via non uso questo perché mi causerà Dismas stress stress su Dismas agisce per ultimo se agisce c'è 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 prima di lui proverei aspetterei perché almeno rimuoverei un po' di stress però mi becchierei un attacco e non voglio rischiare non so che cosa mi aspetta dopo prossime ricompense 16 12 mappa dell'accademico 100% di esplorazione dei luoghi cassa panca 3 nell'inventario merda 66% di scudo converte debolezza in scudo e debo e lì e vulnerabilità in scudo e debolezza in attacco trofeo 200% dei danni ai resti corporei è l'inizio della battaglia irremovibile proverei perché questo si monta sulla carovana me lo ricordo ma nelle taverna lo puoi fare questo non è male questo è tanta roba facciamo giù ci benedico sento che è una cazzata sento minchia 185 185 da è lì di vita lì di troia qui c'è un'altra cosa radice serpeggiante 3 attacchi che non conosco 2 resistenza ai colpi di grazia 3 resistenza ai colpi di grazia figlio di puttana è tosta questo lo posso attaccare teoricamente vero? questo quanto occupa? non lo so 10 di velocità sto coso maledizione agisce sempre per primo immune a tutto però cosa succede se lo attacco? devo scoprirlo rispetto niente ok non succede niente apparentemente vabbè sit down boy male male su rinquietanti che cosa fa? bersaglio niente semplicemente da stress ok direi di dobbiamo giocare sui boss bisogna sempre giocare sul danno del tempo ve lo dico io e quindi direi non utilizzo adesso perché se lui guadagna uno di stress potrò utilizzarlo e guadagnare 4 di stress così sarebbe un turno semi sprecato quindi direi di proteggere Dismas non si sta mai e niente vediamo cosa succede ah questo cos'è? velocità meno 2 è stacca mi sembra che stacchi oh si mi sa che stacca è più stacca secondo me peggio va reagisce alle attacchi ho l'idea ve lo dico io no pensavo che attaccandolo rimuovevo le ragioni no rimuove le radici avevo ragione avevo ragione il suolo si agita c'è qualcosa di strano che si muove sotto il terreno merda facciamo così speriamo che funzioni questo sembra un attacco caricato e mi sa che mi farà il culo era attenta io attaccherei questo perché ho paura che se stacca questo me lo porta in punto di morte quindi ma il fatto è che è immortale meno morisse sta merda però mi sembrano turni sprecati ok si e poi te ne mette due quindi per forza i miei attacchi distanziati li spreco sempre così è una merda proprio una merda ha schivato? grande mio dio quanto danno psichico porca miseria porca miseria e ho antidoto invece di ho antidoto invece del coso e ignora completamente la mia armatura sto stronzo che attacco di merda che attacco di merda ce le ho le bende mi pare di averle messe su qualcuno le bende su chi le ho messe? su di lei ok oh si questo è veramente un boss difficile eeeh attacchiamo a quanto poco sia il danno dobbiamo farlo 185 danni 185 vite è decisamente troppo è decisamente troppo eeeh si è così le ho ricevute dai ma occupatore di spazio che merdone che merdone devo per forza sprecare i miei attacchi a distanza contro sto stronzo perché se no se quella roba arriva al 3 vi garanzisco che è la fine del mondo è la fine questo quanto stacca no ce l'aveva già al massimo quindi l'ho sprecato sono un coglione come va un coglione adesso userà di nuovo la terra 3 ma è così devo sperare di ucciderlo prima possibile sempre così fa due attacchi ma ma che merdone ne fa due addirittura che figlio di androcchia vai questo va tanto un turno un turno è sempre un turno 100% di fiamma non fa mai schifo ha resistito ma dai che pezzo di merda le muoviamo un po' di stress a leva che pezzo di merda ha resistito al morbo figlio puttana e tu schiva figliolo su via almeno potresti con il passo del duellante raggiungerlo ma non ci riesco devo riuscire a sprecare il colpo di pistola su questo pezzente perché ho paura di arrivare a 3 non mi fido non mi fido ad arrivare a 3 no 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 non mi fido affatto reagisce agli attacchi che cazzo di attacco è scusami ma che cazzo di attacco è questo sarà meglio che gli apri un po' di morbo scusami sarà meglio questo è un po' difficile ho paura a chi mi muoia qualcuno ho veramente paura mi muoia qualcuno e in più ha due azioni questa è una cosa fastidiosissima il fatto che abbia due azioni no non voglio usare le bende su di lui tanto ha tanta vita quindi direi di utilizzare eh di nuovo vorrei utilizzare anche il dardo avvelenato però non mi conviene perlomeno inizierò ad utilizzarlo quando avrà poca vita perché ora come ora rischio di perderla lei che bastardo non mi aspettavo un boss così difficile infatti non so neanche che cosa cazzo mi aspettassi però è un boss difficile questo almeno non ha la possibilità di schivare non mi causa cecità diciamo da quel punto di vista almeno non mi posso lamentare sì verso la fine inizierò ad attaccarlo direttamente con esecuzione e con tutto ma ora come ora dobbiamo resistere il suolo si agita di nuovo lei ce l'ha proprio con lei mi chiedo se cambiando posizione mi chiedo se cambiando posizione riesco a salvarlo avrei dovuto prendere più bende non lo sapevo mi giocassi sul sanguinamento questo merdone e ovviamente veleno antidote non lo posso usare perché non sono avvelenato è furbo il gioco perché sennò avresti una fonte di guarigione garantita ne facciamo così va pesante pesante questo è veramente pesante 12 per 4 turni hai mangiato ratti magari sono cazzi tuoi saranno cazzi miei quello che ho mangiato non credi dismasino dismasbello questa finirà in punto di morte mi sa mi sa che finirà in punto di morte a meno che io non la curi però curandolo rinuncio a un turno merda donna mia meno male che non sanguina almeno cosa cazzo era quell'attacco non sanguina quindi teoricamente dovrebbe agire prima e ho l'assenzio ma non posso usare le bende non posso usare le bende per curarla ed è in punto di morte si la devo togliere dal punto di morte eh vatti dal cazzo tutorial mi sembra il momento di darmi un tutorial quando sono in una boss fight coglione coglione se magari lo potessi spingere indietro qualcosa ma no lo devi prendere in culo per forza dai 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 bravo 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 un po' di pistola non ho scelta ti ripeto quando sarà verso i 30 HP inizierò ad attaccarlo ora come ora invece devo farlo assenzio mi cura di 11 vita però non posso permettermi di beccarmi di beccarmi 3 stacks secondo me mi va in punto di morte è un attacco orribile secondo me se arrivano a 3 stacks ok mi è aggiunto uno stavolta Dismas è lui va bene va bene va bene minchia questo schiva tutto grazie al rispetto tra Dismas e lui sta schivando tutto maledetto animale questo ha 7 questo ha 7 questo ne ha 6 di fatto che medicina da battaglia ha solo 3 utilizzi quindi devo fare molta attenzione ok 47 di vita 12 di avvelenamento ancora ancora devo ancora resistere ho fatto bene a mettere la bellità potenziata sul mio ragazzuolo ho fatto proprio bene ok ora mi fa il terreno muore Dismas però mi devi schivare ragazzo mi devi schivare se no siamo nei guai se no mi schivi almeno tu ma vai a fare il culo fai 30 di resistenza e non inizia a farmi incazzare non vuole che mi muoia nessuno è sto maledetto veramente sembra qua per farmi incazzare piccolo stronzo secondo me posso iniziare a concentrarmi su di lui dovrei aspettare un altro turno facciamo così rimuoviamo una stack e con Audrey lanciamo il veleno su di lui quante probabilità ci sono che mi capiti di nuovo su Audrey lo stesso viticcio no piccolo stronzo potrei curare Dismas no uscidiamo sto stronzo quanto non ha più danno di avvelenamento che figlio di puttana è giustamente il set di vita quindi troia ho le esecuzioni di Dismas e ci conto e l'ho detto quante probabilità ci sono che capiti su Audrey quante probabilità ci sono 25% e giustamente soffocamento ed era paralizzato questa è una cosa che non sapevo potevo rimuovere direttamente due stacks e non lo sapevo ok possiamo ucciderlo in questo turno secondo me sì possiamo ucciderlo in questo turno spero non mi attacchi Dismas alla grande alla grande Dismas in ginocchio di fronte al vero generale maledetto io sono il migliore io sono il generale tu devi stare zitto e soffrire fallito di un generale lì col tronco che gli esce dal culo zitto zitto io sono il generale guarda la tua testa di merda penzolerà dalla mia carovana così coglione inventario pieno oddio l'inventario pieno è vero ma ho trovato dei ninoli abbastanza interessanti 100% di esplorazione di luoghi bauli dell'accademico e studio dell'accademico ok questo mi interessa vorrei equipaggiarlo dov'è oh mio dio devo ancora capire come cazzo si apre l'inventario così ottimo allora tu hai 5% di critico tu hai stemma isolante anteriato casuale ok tu hai ornamento casuale questo mi fa proprio cagare questi due fanno proprio cagare sai cosa dov'è dov'è diamoli questo oddio è geniale questo e se si becca debolezza nonostante sia il primo del turno si prende anche il baule del grog ma è geniale sono o non sono un genio del male sono proprio geniale voglio i commenti i commenti via ma quanto sei intelligente ma ti sei laureato ad harvard no però madonna quando ti vengono queste epifanie ti senti proprio sono proprio furbo in ogni caso riprendiamo l'avventura sperando di non incontrare oddio una ruota ho appena battuto il boss e mi dai pure una rottura di ruote per non dire altro si odiano proprio questi due sono due di guarigione che merda che merda ok direi di andare a destra per curarci onestamente vedo l'ospedale i disperati come vi possiamo aiutare ragazzi loro si vogliono bene loro si invidiano questo vuole bene all'altro ok cibo e questo mi da esplorazione si facciamo un'esplorazione perché mi serve sapere che cosa ho per strada vediamo vediamo che cosa mi dicono loating mio dio mi esplorazione minchia ma tutto porcaccia la miseria 56 leghe fino alla locanda quindi qua mi becco un baule e poi uno di difesa perso e poi c'è una oasi poi mi becco uno di lealtà e poi ingresso all'oblio qua invece mi becco l'ospedale con uno di loating poi vado a destra un altro di loating lo chiamo loating ma in pietà intendo no allora uno di di niego poi qua abbiamo il collezionista però posso evitarlo andando direttamente all'oasi dopo l'ospedale mi becco un combattimento in mezzo però apparentemente mi devo beccare in ogni caso almeno se vado nell'ospedale mi becco almeno due è tosta questo mi riduce assolutamente questo me lo riduce poi se vado di qua bambo la voodoo se vado di qua mi ravvino ancora le ruote maledizione eh è difficile qua direi di andare sì intanto cammina vogliamo tutti andare all'ospedale e andiamo all'ospedale non facciamoli arrabbiare i nostri ragazzi non importa uno di è in pietano nella fine del mondo il problema è che si stanno tutti stressando senza motivo è una rottura di coglioni veramente un giramento di cazzo sono veramente fastidiosi quando si odiano così senza motivo mio dio devo pure pagare per curarmi maledetti bastardi ok sei di vita potrebbe bastarti dici no ok possiamo possiamo andare come si esce basta basta me ne voglio andare basta come si esce come si esce da qui basta come esco da qui a farmacia ci sono pure gli oggetti oddio ci sono pure gli oggetti dammi le bende ah merda devo scartare qualcosa eh posso scartare questo ok oddio sto finendo i soldini ok non posso comprarne altro due ok non ho più soldi alla grande però un botto di lino lì maledizione questo cos'è equipaggiamento medico più 20% di guarigioni durante il viaggio per niente male per niente male se riesco a montarlo però mi pare di averne un altro questo mi da tre spazi nell'inventario questo posso anche scartarlo no lo userò è troppo rischioso come si esce da qui raga basta santorio oddio posso ah come nel vecchio gioco posso confermare e rimuovere le abilità minchia codardia se lo potessi rimuovere sarebbe proprio il top no non ho soldi maledizione non lo sapevo di poterlo fare non sapevo proprio di poterlo fare codardia lo odio lo odio proprio 15% sembra poco ma è veramente tanto come esco ah mio dio c'è l'icona gigantesca fanculo non la vedevo ok andiamo dal collezionista all'incontro di assistenza no andiamo dal collezionista ma pure andiamo all'oasi nessuno vuole andare all'oasi quindi questi due si beccano lo stress tutte e due ti hai rotto il cazzo tu però con sto stress ti dico proprio perché hai rotto i coglioni con sto stress di merda mi conviene affrontare il combattimento così almeno utilizzo la sua abilità mi rimuovo due di stress andiamo all'oasi andiamo all'oasi mi conviene affrontare un combattimento così almeno oh alla grande almeno mi rimuovo un po' di stress no ai miei personaggi mi datevi molto meglio ah non sono neanche troppo pericolosi ah niente di che ok ciao bellissima vorrei uccidere lei fa un culo riesci ad attaccare ma quanta velocità c'hai stronza maledetta due di velocità dall'agito prima dei miei prendi per il culo guarda secondo i miei calcoli cinque più elevato io non mi ricordo sono stati sono passati molti anni da quando ho fatto la scuola ma da quel che ricordo ho sbaglio cinque mi pare sia più più alto di due andando questo crepa diventa invisibile poi fa un attacco critico che secondo me fa un botto di danni maledetto bastardo però non è un problema quanto ho di luce? lala questo cinque per cento di critico fa la differenza credete a me fa proprio una differenza la grande purtroppo non ho altro laudano bello me gusta me gusta quando tu mi schiva ciao bellissima ciao anche tu puoi cre... bastardo sei un bastardo sai cosa? mettiamoli combo e poi li spariamo in faccia ah è vero che si odiano questi due oh mio dio che due coglioni che siano volevo utilizzare combo e stun però alla fine è un po' è incoglionito che cazzo è quella roba è pazzo? le musica sono belle proprio belle proprio bella bella ah bella bella bastardo non riesco a fargli esecuzione bello e ora agisce il maledetto spesavate? ok ha funzionato possiamo andare vamonos ok abbiamo curato un po' di stress abbiamo curato un po' di stress adesso c'è l'oasi vediamo che cosa ci offre l'oasi speriamo che di nuovo mi offra un po' di stress per Audrey perché non è ben messa è piuttosto stressata la ragazza ah solo lui lei non può agire vaffanculo questo mi dà 5 di stress 5 di fiamma 5 di fiamma va bene dai perché lui è più stress di tutti 5 di stress è stato bello 3 di stress 5 di vita oh mio dio questo è stupendo rimuove stress e cura 5 di vita secondo me lo puoi utilizzare a prescindere perché non c'è nessuna condizione un po' come le bende ancora 40% 25% che i nemici abbiano un vantaggio non è così grave allora voglio a chi lo posso dare a chi lo posso dare allora tu hai bisogno di un po' di bende lui aveva degli antidoti che in realtà non mi servono nella nella serva pensavo mi sarebbero serviti ma apparentemente non servono sarebbe più bello se ci fosse almeno 3 di spazio invece no ok vediamo tu hai antidoto no prendi l'acqua ok grande grande ragazzo mi sei piaciuto ho venti di spazio e quindi mi chiedo se trovo degli oggetti li scarto vero? allora io scarto questo che tanto non utilizza l'avrei dovuto scartare questo che è più inutile perché alla fine mi dava no non mi sembra di aver visto velocità oh 4 laudano non l'ho visto l'avrei dovuto equipaggiare adesso sarebbe stato molto comodo no questo lo uccido concentriamoci su di lui è stupido sprecare è stupido sprecare la mia il mio veleno contro questo idiota qua che tanto l'ho ucciso adesso tipo così lui che cosa guadagna? stress allora li facciamo coltello da lancio non lo posso fare che brutta cosa e tu al solito sangue oppure malattia? che malattia mi dà? sì ma dimmi che malattia mi dà grazie vorrei sapere che malattia mi dà cortesia è bellissima sta cosa eppure si illuminano pure le ginocchia se avete notato è realisticissima sta cosa respinto tua sorella do io il respinto te lo do te lo do io il respinto te lo do cos'è questo? ha bevuto un antivirus prima di venire in combattimento che sto maledetto schiva tutto e mi ha beccato pure il mio dismas con lo schivata allora sei merda sei di troia perché ne hai fatto due di danno che non aveva neanche armatura affanculo maledetto se vuole darti fastidio proprio si butta con tutto se stesso e riprende l'avventura verso la mia pianura andiamo nella padana a portare civiltà cosa mi aspetta qui? credo che sacrificherò un po' di gommoni un po' di ruote non lo so devo decidere ingresso l'oblio oh mio dio è un problema qua eh ok simpatia possiamo batterli forse lei mi converrebbe che parlasse non so come sono messi forse barristam c'è un barristam va? magari sviluppa qualcosa anche lui con gargantueschi penso che abbiano più vita oh madonna mia 25 vita massima in più mi hai detto che sono gargantueschi ma non mi hai neanche detto che abbiano che hanno più velocità extra eh scusami e che cacchio oh mio dio che rubino cos'è quella roba del lucchetto? nemico trae beneficio da catene nooo cos'è catene del diniego? è il mio oggetto? no non è il mio oggetto allora che cacchio è? Mi è piaciuto Perché stai sanguinando tu? Tutto stronzo Li rimuoviamo la schivata Va bene, va bene Li rimuoviamo la schivata Va benissimo Adesso guarda qua Avvelenato Chi è che morirà il prossimo turno? Filo di troia Ah ecco perché sanguin... Ma questo veramente ha la resistenza al sanguinamento zero Perché hai l'antidoto? Non ti avevo dato le bende Maledetto Va bene Allora fai un po' di difesa Su di lei Merda avrei dovuto utilizzare l'antistress Non ci ho pensato Non ci avevi pensato Lui lo curo dopo Lo curo dopo Diamo a questi ragazzi quello che vogliono Mi rompo Preferisco giocare e fare le domande dopo Non me ne frega un cazzo Ecco cosa serve È stato bellissimo Doppio attacco Tra l'altro 8 di danno li ha fatto Non scherza Non scherza il nostro Il nostro dottoren Dottorello maledetto Ok questo no Non le uso le bende adesso È presto Direi di utilizzare questo Ma penso che schiverà il maledetto Purto stronzo Un'opportunità Quando c'è il 50% È sempre così Pur è cecato Vabbè vuoi aggiungere qualcos'altro Alla festa Uso questo che tanto guadagna lo scudo lo stesso E direi Di curare lui Poi direi Avanzare con lui Dammi un critico Desmascazzo Il migliore Il vero uomo Il uomo L'unico inimitabile Allora tu potresti bere l'assenzio dopo Il fatto è che è rischioso Se viene attaccata Più il sanguinamento Aia Eeeh Non lo so Più che altro ha cecità E quindi il 50% Che va da segno Naturalmente stavolta è andata a me Ci vediamo nella prossima vita Idiota Bravo Dismas Al solito non mi deludi Oh qua è tosta Posso migliorare niente No Vabbè Inchia Questi vogliono proprio vincere sta battaglia Se ne sbattono altamente Vaffanculo Oggi Oggi noi non perdiamo raga Oh 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 Ah ma Ma vale per tutti Oh Vale per tutti Ogni eroe Io ho letto solo il mio Ma è bellissimo Baby Ma sto assenzio lo bevi Cioè Devo avere due di vita Per Affinché funzioni bene Ma l'ha detto assenzio La Audrey la devo curare Ok Non dovrebbero riprendersi Bravo Dismas Non lo so È difficile Contraattacco ce l'abbiamo La schivata ce l'abbiamo Però una in più non mi farebbe male Al massimo No metto un critico Metto un critico Metto un critico Il prossimo attacco Le lo faccio critico Mi piace Sì 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 Metto No no Metto un critico Il prossimo attacco Sarà sicuramente critico Le muoviamo lo stress No attacchiamo Abbiamo il danno extra Approfittiamola Approfittiamone come Ancora vivo sto stronzo Uno di vita Pur di dar fastidio E maledizione È ancora in piedi sto maledetto Vieni qua bello Uno di vita Tutte e due Ma che siete Maledetti Marrani Guarda qua Godo Piccola merda Adesso possiamo Temporeggiare Uccidendo lui Rimuoviamo lo stress Con il nostro amichetto Così guadagniamo un turno Al prossimo Utilizziamo Perché tocca a te Vabbè Beviti un po' di assenza Non rompere i coglioni Questo dovrei utilizzarlo più spesso Perché comunque mi dà molta schivata Utilizziamo Mira attenta Così tocca sì Poi tocca a Barista Mi piace Mi piace Barista non è accicato Quindi lo colpirà sicuramente E curiamo Lui Lui è in prima linea Lei no Ha funzionato Adesso ci rimuoviamo un po' di merdacce Di Di coso Un altro Il primo mi faceva cagare Figurati se questo lo voglio tenere Dov'è Sai cosa Ci scartiamo questo Anche questo No aspetta Allora qua abbiamo studio dell'accademico Abbiamo il combattimento Però nessuno ci vuole andare Qua abbiamo ingresso l'oblio Perché riduciamo il loating Qua perdiamo le ruote Quindi la guarigione sarà ridotta Quindi andiamo qua Qua Santuario dell'eroe Proseguo la storia dell'eroe Di un eroe Questo devo capire cos'è Però mi piace questo Questo mi piace molto Perché mi rimuoverà questa merdaccia qua Poi andremo di qua E poi andremo di qua E poi vinciamo Ok Sembra interessante Sembra un piano Sembra un piano Il fatto che mi riduco la guarigione Eh quanti combattimenti mi aspettano Se vado di qua Uno Due Tre almeno quattro combattimenti Ah Sì Tanto ovunque vada È un po' È un po' una fregatura Andiamo a destra Giusto Noi combattiamo Affinché gli altri Possano fuggire Aspetta una cosa Devo vederla E sarebbe Credo che la Credo che la guarigione Ci sia lo stesso Anche con le ruote Completamente danneggiate Perlomeno Spero che ci sia ancora Perché se non ce Siamo fregati Se non ce la siamo proprio fottuti Ve lo dico Ok Dimmi che Ok si curano lo stesso Però di meno Va bene va bene Non è un problema Non è un problema per noi L'avampusto abbandonato Quindi saranno i cadaverici Suppongo vero? Beh Gli erranti Allora Oh Questo c'è un effetto extra Mi piace Mi piace Mi piace Non andava Non andava d'accordo Ancora? 20% Maledizione E su via Sei merda Sei 20% Scusami Fare la merda con me Resiste Ma cosa? Ma tua madre Ma E allora Ma questo è proprio Fastidioso Ho capito che devo superare Le avversità Con le mie abilità Da generale supremo Ma questa È un dito in culo Non è un'avversità Tu stai cercando Proprio di darmi fastidio Vai apposta A farmi A farmi incazzare Facciamo questo Mi piace Oppure È stupendo Sto gioco È stupendo Allora Potrei cercare lui Però La merda Lui lo devo curare Il cazzo di perforazione Di merda E questo sanguina sempre Sì Cosa fa Questo sanguina Sei una roba Ma perché troia Va al ristante È sempre Non lo so Qualsiasi cosa faccio Lui sanguina Raga È una cosa incredibile Io non lo so Ok Curalo È sempre lì a sanguinare Non so come cazzo faccia Eh lo stress Non mi fa proprio bene Aia Aia Dovrei difendere Paracelsus Perché lui Lui lancia i teschi Ne sono sicuro Sono sicuro che lui lancia i teschi Ok Ottimo Dobbiamo avvelenare lui Sempre di più Ma dai Non è stato così convincente Sapevo che avrebbe la Pure Pure Cosa altro vuoi aggiungere Fammi Rimuovimi un po' di stress Piccoli gesti che respingono l'oscurità Maledizione Sono messo di merda Questa spedizione andrà proprio male Ho ancora Ho ancora cosa Due combattimenti davanti Ho l'acqua Ma la voglio tenere per l'emergenza La voglio tenere per l'emergenza Magari lui riesco a bidonarlo Con una mazzata sul cranio Contraattacco no? Ancora schivata apparentemente Maledetto Maledetto Ha fatto Ha rotto i coglioni Ha rotto Ne trovo Funziona? No Stupido Ah è stato È stato tosto Sto combattimento È stato tosto Sì Molto tosto 24 lega E la prossima Locanda Maledetto Maledetto Maledetto